Sicuramente è la prima partita, sarà una partita difficile e complicata, è un derby sentito da ambe le parti, noi ci siamo preparati bene questa settimana e vogliamo regalare qualcosa di importante agli ultra, agli appassionati dell'Agras, sapendo pure che la partita sarà complicata, però noi dobbiamo dare tutto quello che abbiamo. C'è tanta emozione, tanta importanza per questo esordio in Coppa Italia, come l'avete preparata questa partita? Sì, li abbiamo preparata bene, i ragazzi sono stati sempre disponibili, hanno lavorato con molta professionalità, è quello che noi cerchiamo, staff, siamo contenti, abbiamo avuto qualche problemino, però ci sta, fa parte del gioco, chi scendere in campo darà l'anima per questa partita, ma non solo, ma soprattutto per questa domenica, che sarà una domenica impegnativa, il derby, dobbiamo sottolineare, è una partita sentita, quindi noi ci crediamo e spero che il pubblico venga in massa per darci una mano. arriviamo bene, ripeto, è la prima partita, quindi ancora ci sono i carichi di lavoro, però i ragazzi stanno smaltendo, questa settimana, ripeto, hanno lavorato con una certa brillantezza, quindi siamo contenti come staff, dobbiamo ogni giorno dare di più, perché il mio motto è cercare di, se ci saranno delle difficoltà, cercare di superarle man mano. Secondo me sarà una partita di studio, inizialmente, poi dobbiamo essere bravi noi a cercare di dettare il ritmo, perché noi ce l'abbiamo, abbiamo qualità e dobbiamo dimostrarlo, quindi sarà una partita bloccata, però dobbiamo essere bravi noi a gestirla mentalmente soprattutto, ci sarà caldo, ma ci sarà caldo anche per loro, quindi non sarà una scusante, però secondo me noi avremo una marcia in più, perché sono convinto che il pubblico ci aiuterà. Grazie.